Un grande passo per la ricerca e la cura del linfoma nonocchi in quello compiuto dai ricercatori dell'Università di Padova in associazione con l'Istituto Oncologico Veneto, lo IOV, con un trattamento innovativo ovvero la terapia a cellule CIC. Oggi per la Fondazione Lorenzo Farinelli parliamo con il responsabile di questo studio ovvero il professor Antonio Rosato del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova. La prima domanda che le pongo è che cosa sono le cellule CIC e soprattutto come funziona questo trattamento? Buongiorno a tutti innanzitutto grazie anche per questo invito e grazie ovviamente per questa prima domanda che mi offre un po' la possibilità di inquadrare o di fornire alcune informazioni relativamente una popolazione che è un po' meno conosciuta ovviamente rispetto ai CAR T. Le cellule CIC sono una popolazione di cellule effettrici ovvero cellule che hanno la capacità di riconoscere il tumore e di ucciderlo. Questa è una definizione molto semplicistica. Questa popolazione di cellule CIC dove l'acronimo CIC sta per cytokine induced killer cells cioè cellule killer indotte da citochine è una popolazione però che ha tanti vantaggi perché innanzitutto è molto semplice da produrre cioè si parte dal sangue periferico di una donatore sano di un paziente si isolano i linfociti e questi linfociti vengono poi attivati in coltura in laboratorio e vengono portati avanti mediamente per due o tre settimane in modo tale da dar loro modo di espandersi, di diventare tante cellule. In particolar modo questo periodo di coltura in laboratorio favorisce proprio l'espansione della componente CIC che è una componente quindi di cellule che sono un po' a cavallo tra i linfociti T e le cellule killer naturali, le cellule NK perché condividono recettori dell'una e dell'altra popolazione. Primo vantaggio ripeto è quello che a costo anche molto basso si possono espandere in grandi numeri, noi riusciamo a raggiungere veramente incredibili ma con appiati modi di coltura, modalità di coltura con delle fiasche particolari a partire da poco più di 30 millilitri quindi un piccolo prelievo di sangue veramente, riusciamo a raggiungere miliardi di cellule che poi potrebbero essere infuse appunto a scopo terapeutico nel paziente e questa popolazione di effettori che ripeto condivide questi recettori diciamo nello specifico il CD3 che è un recettore specifico dell'infociti T e il CD56 che è un recettore normalmente presente solo sulle cellule NK, questi precursori quindi hanno modo di espandersi, di diventare molti in coltura e sono poi quelli che medieranno l'effetto terapeutico nel paziente. Qual è in realtà quindi le cellule C con queste caratteristiche sono ormai note da parecchi anni, sono state e sono attualmente largamente utilizzate in moltissime tipologie di tumori non solo ematologici ma soprattutto tumori solidi. Il contributo principale che noi abbiamo portato è legato al fatto che qualche anno fa abbiamo realizzato che queste cellule hanno anche altri recettori in particolar modo un recettore che si chiama CD16 che è un recettore che permette alle cellule CK di essere reindirizzate in presenza di anticorpi specifici nei confronti di quelle cellule bersaglio, quelle cellule tumorali che esprimono il recettore riconosciuto da tagli anticorpi. Questa è un'attività ben nota nelle cellule natural killer che si chiama citotossicità cellulo mediata anticorpo dipendente e noi abbiamo appunto potuto dimostrare ancora qualche anno fa che questa attività è presente anche nelle cellule cieca. Da questo è arrivato il concetto di questo nostro ultimo lavoro, ovvero combinare in ambito oncoematologico da una parte un'attività citotossica che di per sé, proprio per come sono costituite le cellule CK sarebbe a specifica, cioè non riconosce specificamente questo o quell'altro tumore, ma di rendere tale, cioè convertire questa attività citotossica specifica in un'attività specifica, ad esempio, per il linfoma in questo contesto, usando anticorpi che sono però già in utilizzo clinico, cioè tipo il rituzumab che si utilizza normalmente proprio nei linfomi o la sua, una forma più evoluta, sempre diretta contro il recettore cidenti che è il lobidinutuzumab che è un altro anticorpo che riconosce questo recettore ma che poi ha anche delle modifiche a livello di una sua porzione per renderlo più affine alle cellule che sono in grado di legarlo. Ora il concetto quindi qual è? Generare con semplicità e molto facilmente in grandi numeri delle cellule intrinsecamente dotate di attività citotossica ma non specifiche per il tumore e convertirle grazie alla semplice combinazione con un anticorpo che è già in utilizzo clinico e che quindi non avrebbe bisogno di ulteriori studi clinici in questo senso. Quindi combinarle, ripeto, questi due elementi per migliorare la terapia dei pazienti con linfomi o neoplasie cellule B. Riguarda proprio il linfomano Notchkin, noi sappiamo purtroppo, i dati ce lo dicono, è una delle forme di cancro più diffuse e purtroppo colpisce ancora davvero troppe persone e se in un primo momento si propone ovviamente la chemioterapia, per quanto riguarda i linfomi chemi resistenti si è utilizzato come diceva prima anche la terapia delle cartiselle. Ma con la terapia delle cartiselle che differenze si presenta rispetto alla terapia cellule CIC, essenzialmente cosa va a colpire di diverso? Di diverso per certi versi quasi nulla, mi spiego meglio. Le cartiselle derivano da un paziente, in questo caso un linfomo ovviamente, che viene sottoposto a un'operazione che si chiama leucaferesi, quindi si raccolgono le sue cellule periferiche, i suoi linfociti dal sangue periferico, questi poi vengono inviati per essere modificati geneticamente nelle ditte che producono queste cellule, e poi una volta modificati ed espansi vengono rinviati indietro all'ospedale dove sono infuse come terapia nel paziente. Sono cellule linfociti del donatore che poi sono geneticamente modificati con questi chimeric antigen receptor, con dei recettori che in natura non esistono ma che sono fatti di parti di recettori naturali, quindi si parte anche qui da un anticorpo, nello specifico è un anticorpo che riconosce il CD19, nel caso delle cartiselle, che poi viene attaccato la manina, il punto di riconoscimento dell'anticorpo, viene attaccato ad altre strutture molecolari che permettono di trasdurre un segnale, quindi di attivare la cellula carti, una volta che questa esprima l'insieme di tutto il recettore. Quindi abbiamo passaggi piuttosto complessi che quindi anche portano costi molto elevati. L'approccio che noi proponiamo è basato sulla generazione di cellule effettrici a basso costo, perché i costi sono veramente irrisori, diciamo noi abbiamo fatto un calcolo che probabilmente questo tipo di approccio potrebbe costare almeno 10 volte meno rispetto a quello dei cartiselle normalmente, quindi cellule che da una parte non sono assolutamente e minimamente modificate dal punto di vista genetico, che sono anche più sicure delle cartiselle, nel senso che è noto e ormai assodato che le CIC non fanno né graft versus host disease, cioè potrebbero addirittura essere prelevate da un donatore terzo, essere infuse quindi nel ricevente perché magari questo ricevente non ha sufficienti cellule per generare esso stesso le cellule CIC e ancora in questo contesto non ci sarebbe rigetto e non ci sarebbe un attacco specifico di queste cellule CIC nel paziente e quindi sono cellule sicure, semplici da produrre a basso costo in cui poi l'ingrezzamento specifico nei confronti del linfoma sarebbe mediato dalla semplice combinazione, come già dicevo prima, di anticorpi che sono correntemente già approvati per l'utilizzo clinico. Quindi mettendo insieme due elementi, uno di cui è già tanto noto, ma che è ancora a livello ovviamente sperimentale, cioè le cellule CIC, due anticorpi che invece sono assolutamente di utilizzo clinico, avremmo la possibilità di realizzare una terapia tumore specifica molto più efficace che non l'utilizzo dei due singoli elementi separati. Quindi essenzialmente comunque il concetto è che le carti cells sono cellule ingegnerizzate e quindi hanno anche necessità di studi di controllo di qualità, che non ci siano problemi eccetera eccetera, ripeto anche tanto ad alto costo, estremamente efficace, su questo nessuno discute, tutto da dimostrare ovviamente sul versante delle cellule CIC, ma che da parte loro porterebbero in dote una estrema semplicità di preparazione, a partire anche da numeri molto limitati di cellule del paziente e che potrebbero quindi essere in maniera molto plastica utilizzate non solo in questi contesti onquematologici, ma anche mutates, mutandis, esattamente in tanti altri contesti neoplastici, purché si cambiasse semplicemente il tipo di anticorpo e quindi il tipo di bersaglio molecolare presente sulla superficie del tumore. La terapia, come diceva, quindi ancora è in fase di sperimentazione. Quali sono i prossimi passi per la terapia a cellule CIC e è rivolta a tutti i pazienti, quindi anche ai bambini ad esempio? Noi abbiamo ormai da qualche anno, siamo in stretta collaborazione con i colleghi ed amici del laboratorio di terapie cellulari avanzate dell'ospedale di Vicente, dove c'è proprio una camera bianca, una GMP facility, come tecnicamente si dice, cioè una struttura autorizzata già adesso per la produzione di terapie cellulare e proprio grazie a questa collaborazione abbiamo impostato la nostra ricerca in modo da produrre queste cellule CIC con quelle caratteristiche, con quei fattori di crescita, con quei terreni di coltura, che poi saranno effettivamente utilizzati in ambito della camera bianca per produrre la terapia vera e propria da trasferire al paziente. I primi risultati che datano da poco più di un mese, cioè i primi test effettuati per la produzione delle cellule, sono stati estremamente di successo, quindi hanno perfettamente confermato anche all'interno di questa struttura quanto noi avevamo già visto nei nostri laboratori, i prossimi pochissimi mesi, già questo di settembre, in ottobre, ma sicuramente prima di Natale, verrà completato la produzione dei lotti richiesti da AIFA, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, per la convalida della terapia e verranno prodotti tutti gli documenti per la richiesta dell'inizio della sperimentazione clinica, o meglio in una fase iniziale, quello che verrà richiesto è di poter ottenere l'autorizzazione alla produzione di questo tipo di terapia e di poterla somministrare in quella che attualmente va sotto il nome di hospital exemption, cioè quelle condizioni che una volta si diceva uso compassionevole, ovvero in pazienti che non sono ad esempio elegibili terapia a parti e che quindi non hanno ulteriori opzioni terapeutiche, per cui questo sarà un po' la fase iniziale e poi speriamo di riuscire l'anno prossimo a raccogliere i denari, sempre tanti purtroppo lo sapete anche voi come fondazioni, come charity, non so quanto difficile sia, ma sono necessari molti denari, per cominciare una vera e propria sperimentazione di fase 1-2 per validare se questo tipo di approccio sia effettivamente una buona alternativa o un compendio, un ulteriore aiuto direi alla terapia a parti. Io la ringrazio per questa chiacchierata e le faccio i miei migliori auguri per l'approvazione e per i suoi studi futuri. Io ringrazio voi, ringrazio la fondazione, non basta mai l'aiuto che le vostre attività sono in grado di fare sul territorio per promuovere questo tipo di studi, quindi grazie all'impegno di tutti quanti e a presto, magari con altre buone notizie soprattutto per i nostri pazienti.